www.redigio.it e la storia continua Il notaio della morte nera La peste del 1348 è uno degli eventi che drammaticamente segnarono la storia europea, con ripercussioni profonde in tutti i campi della vita sociale ed economica. A lungo ignorata, una delle più vivide e puntuali testimonianze sul terribile fragello è la cronaca, quella redatta dal notaio piacentino Gabriele de Mussis. La storia del morbo mortale, che nell'anno 1348 del notaio piacentino Gabriele de Mussis, che è nato nel 1280-1356, rappresenta un tanto prezioso quanto poco conosciuto documento sulla terribile epidemia di peste del 1348. A 670 anni da quei tradici eventi, offriamo dunque al suo autore la possibilità di riprendere la parola. Dopo alcuni passaggi iniziali, dei quali riporta le idee allora dominanti sull'influenza degli astri nelle vicende umane, il de Mussis fornisce le origini geografiche del fenomeno. Nell'anno del Signore 1346, in quella parte del mondo che aveva generato tartari e saraceni, si abbettè un morbo incomprensibile e una morte repentina. Così, da ragioni lontanissime, indefinite province, magnifici regni, città, borghi e luoghi, in breve tempo la malattia colpì la copiosa moltitudine di uomini. Li morse con una morte orrenda e in breve tempo i loro abitanti scomparvero. Fra il 1279 e il 1350, la peste era endemica nelle regioni ai confini con l'Himalaya e con l'intensificarsi verso nord degli spostamenti delle carovane, la via della seta fra Cina e Siria contribuì a diffondersi dell'epidemia in Russia, Asia centrale, Iran e Iraq. I roditori selvatici che vivevano nelle steppe euro-asiatiche vennero in contatto con i portatori delle nuove malattie, fra cui la peste, e le loro tane umide e calde furono il loro luogo ideale per la sopravvivenza del bacillo. Le pesanti variazioni climatiche del regime monsonico falciliarono i roditori e per sopravvivere le loro pulci, vettori del bacillo della Yersinia pestis, furono costrette ad attaccare gli esseri umani e gli animali utilizzati per i trasporti, come cavalli e cammelli. Il morbo venne così trasportato sulle rotte commerciali che attraversavano l'impero mongolo e nel 1338 raggiunse le popolazioni nei pressi del lago Iskol, nell'odierno Kirghizistan, tappa obbligata dell'antica via commerciale. Da qui dilagò a macchia d'olio per le steppe russe, fino a raggiungere la Crimea, dove il Khan Ghanibek poneva sotto assedio Kaffa. Oggi è feodosia. Un inutile rimedio. Il De Mursis racconta cosa successe nei pressi di questa località, situata sulle rive del Mar Nero. «Oh mio Dio! Guarda come le razze pagane dei tartari confluenti da ogni dove, circondata la città di Kaffa, assediarono per tre anni i cristiani. Qui, protetti dallo smisurato esercito ostile, appena poterono avere tregua e lecito manifestarsero intrinsecamente una tregua, una tenue speranza quando vennero nei loro soccorsi le navi cariche di viveri. Ed ecco che i tartari, invasori, si ammalarono. Fu colpito tutto l'esercito. Ogni giorno ne morivano migliaia. Era inutile ogni rimedio e ogni cuore dei medici. Essi videro le frecce volare nel cielo, colpirli e schiacciare la loro superbia. I tartari morirono, segnati nelle articolazioni e sul linguine da sangue coagulato per le conseguenze di una febbre purulenta. Sconvolti da tante perdite e indebolite dal morbo, del tutto attoniti, i tartari, senza speranza di guarigione e consapevoli di morire, decisero di lanciare con le loro catapulte i cadaveri nella città di Caffa, affinché l'insopportabile miasma ammazzasse tutti. Così gli accerchiati cristiani, rendendosi conto che non potevano né scansare né sfuggire da quella montagna di cadaveri, né gettare né in mare il più possibile. E il fettore crebbe così tanto che ben presto tutta l'aria e tutta l'acqua infettata da quella corrotta potrefazione. Anche se l'accuratezza della descrizione potrebbe sembrare che il notaio fosse testimonio oculare di quanto caduto a Caffa, in realtà non si trovava sul posto, anzi, non si mosse mai da Piacenza. Lo dimostrarono i suoi atti, rogati ininterrottamente dal 1300 al 1356. E si interrompe dappertutto qualsiasi parvenza di vita politica e amministrativa. Città, fortificazioni, campi, selve, strade, corsi d'acqua vennero circondati da briganti. E questi sono spiriti maligni, sommi torturatori del giudice supremo, genitori di infiniti supprizi per tutti. E la violenza del morbo venne efficacemente descritta dal notaio nell'episodio dei militi ladri. Quando un esercito si accampò nelle vicinanze di Genova, quattro soldati lasciarono i compagni d'arme con l'intenzione di depredare persone e luoghi. Si diressero da Rivaroro verso il litorale, dove il morbo aveva già ucciso tutti. Individuarono un'abitazione ed entrati notarono un letto con sopra una coperta di lana. L'afferrarono, la portarono via e fecero un ritorno presso l'esercito. La notte successiva, i quattro compari si coricarono sotto la coperta. Ma la mattina seguente vennero trovati morti. Da che il terrore invase tutti come i lettioni, questi lasciarono da parte le cose i vestiti dei defunti e nessuno ne volle usufruire neppure toccarlo con le mani. La resistenza delle pulci senza un ospite è stimata in otto giorni. Un'ipotesi potrebbe essere che la coperta a cui fa riferimento il nostro ne fosse permeata e i parassiti avessero contagiato i militari. Dal capoluogo Ligure, il morbo, dilagò verso il nord Europa. Solo Milano scampò al contagio perché le autorità cittadine fecero murare alcuni malati con la loro famiglia e chiusero le porte della città. A questo punto della sua storia il notaio piacentino diventa testimone diretto di quello che accade. Precisa subito che non intende scrivere contro ma per i suoi concittadini a memoria dei secoli a venire di quanto accaduto. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it E la storia continua. www.redigio.it 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 www.redigio.it